Non si allenta il fenomeno delle mucillagini, non si fermano le analisi dell'ARPAM che oggi ha ribadito attraverso un comunicato come il fenomeno non stia producendo interferenze sulla balneabilità delle acque marine. Secondo ARPAM tutti gli esiti delle analisi microbiologiche effettuate nei 207 punti di campionamento individuati dalla regione ad inizio stagione balneari sono risultati conformi ai limiti di legge nel mese di luglio. Allo stesso modo i campioni già prelevati in questo mese effettuati rispettivamente il 5 e l'8 agosto sulle coste pesaresi e maceratesi come da calendario prestabilito sono risultati conformi ai limiti di legge confermando a sua volta la balneabilità delle acque in questione. ARPAM sottolinea che la presenza del fenomeno delle mucillagini non è mai riconducibile come anche negli anni passati a interferenza sulla qualità delle acque di balneazione. Le masse di materiale organico che si stanno formando in conseguenza di fioriture microalgali specifiche creano un evidente disagio ma non determinano un incremento di batteri associati ai reflui urbani che sono quelli che invece determinano la balneabilità delle acque come schericchiacoli ed enterococchi. ARPAM ricorda dunque che il fenomeno naturale è cominciato lungo la costa adriatica centro-settentrionale a partire dalla seconda metà di giugno e oggi dopo che il fenomeno ha toccato pure le coste croate non si sta accennando ad una fase recressiva in quanto le mucillagini rimangono favorite dalla persistenza delle alte temperature e dalle condizioni marine stabili.